Allora, intanto ci sono novità da Bruxelles? Sì, siamo generalmente ottimisti che stiamo avendo un accordo. E poi volevo sapere, sulla Grecia è stato fatto un esperimento sicuramente, come è stato fatto anche con la Spagna per le manifestazioni. Non pensate di essere coinvolti in un'altra sperimentazione? Sì, quindi c'è stato un esperimento in Grecia e in Spagna, quindi pensate che stai coinvolto in un altro esperimento? Sì, perché la contestazione delle politiche esistenti in Europa non è limitata in Grecia o in Spagna, c'è un fenomeno più ampio. Il esperimento reale è provare che una politica tecnologica è possibile, e questo è proprio quello che stiamo facendo in Grecia. Riuscite a portare avanti i loro progetti senza appoggiare i progetti della Troica? Ok, are you able to keep up with your projects without sustaining the Troica's projects? Of course, that's already settled. We have said that we are going to proceed to reforms, huge reforms, but our reforms, not the reforms imposed by outside, by Troica. Quindi riuscite a attirare sulla gente e non accettare la Troica. Ok, so you are able to improve the situation without accepting the Troica? This is to be proven, to be proven. We are trying, we are just three months in power, we are doing our best to succeed. Ok, thank you. Thank you. Thank you. and this is Robert Stevenson Grazie Grazie Grazie